Il mare mette in rete le economie del mondo e noi siamo stati, ci siamo distinti nel corso della storia come esploratori, sperimentatori, imprenditori. Un tempo unico mezzo per conoscere, avvicinare culture, popoli, per incrociare le civiltà. Oggi il mare veicola circa il 90% della produzione globale e il nostro Mediterraneo, che certo in questo spazio globale rappresenta l'1% della superficie navigabile del pianeta, vede ogni giorno transitare sulle sue acque circa il 20% delle merci prodotte nel mondo. Quindi pensate, 1% di superficie globale, superficie navigabile, 20% delle merci prodotte nel mondo. È un patrimonio liquido, un formidabile ecosistema da studiare, monitorare ma anche da proteggere, come ci ammonisce la presenza del ministro Costa. Un settore nel quale l'Italia occupa un posto di primissimo piano, sia in termini di ricchezza prodotta che di occupazione. Il mare, a voi armatori, vi rende testimoni dell'evoluzione anche dei rapporti geopolitici e delle tensioni che molto spesso insorgono, pressoché periodicamente tra i popoli. Elementi questi, non di rado perturbatori, della libertà dei traffici, da sempre patrimonio dell'umanità, che se non salvaguardata comporta conseguenze estremamente negative sulla nostra economia così come sulle nostre società. Direi che la nave, da questo punto di vista, è anche uno strumento potente di lotta delle diseguaglianze. Basti pensare all'importanza di assicurare la continuità territoriale delle nostre isole e di tutte quelle porzioni del nostro territorio che per il necessario approvvigionamento energetico, oltre che per disporre di beni di prima necessità, devono fare necessario affidamento ai vettori navali.